Grazie a tutti, preghiamo di accomodarvi perché dobbiamo ancora consegnare due riconoscimenti, infatti dobbiamo consegnare i riconoscimenti attribuiti a coloro che nel corso del 2013 hanno compiuto un vero e proprio exploit. Il primo è un nostro professore del Dipartimento di Studi Umanistici che è diventato, pensate, il presidente dell'Accademia della Crusca, cioè la massima istituzione in Italia e nel mondo per la salvaguardia e lo studio della lingua italiana. Signore e signori, il professor Claudio Marazzini. È davvero un onore per noi, professor Marazzini. Lei è davvero un vero e proprio vessillo dell'identità nazionale e della nostra identità accademica. Il professor Marazzini è ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ha insegnato nelle università di Macerata, di Udine, di Losanna, prima di arrivare qui da noi al Piemonte Orientale. Il suo campo di studi è la storia della lingua italiana, che ha esplorato in una moltitudine di saggi, libri, articoli in riviste specializzate, dedicando una speciale attenzione al Piemonte, nonché alle teorie linguistiche sviluppate in Italia e in Europa, alla questione della lingua e alla storia della lessicografia. È conosciutissimo dal più vasto pubblico per la sua attività giornalistica, ormai 25ennale, sulla rivista Famiglia Cristiana, dove tiene la rubrica di lingua Parlare e Scrivere. Il professor Marazzini, oltre a essere stato eletto presidente dell'Accademia della Crusca, nel corso del 2014 ha anche ricevuto un prestigioso premio, il premio Dante Alighieri Arte e Cultura, per le sue benemerenze nel campo della cultura e dell'editoria. Davvero un anno speciale per il nostro professor Marazzini, di conseguenza anche per noi. Ecco il premio per l'Expoir. Grazie al professor Marazzini.